I numeri danno ancora ragione alla Foggia, i rossoneri non perdono la testa e nonostante un pareggio casalingo alquanto deludente contro l'Akragas restano al comando del campionato di Lega Pro. I siciliani sono apparsi squadra organizzata ma tutt'altro che irresistibile, in vetta sempre insieme a Lecce che intanto si morde le mani per il doppio vantaggio sfumato con la Vibonese. Addirittura un punto guadagnato su Matera e Juve Stabia che hanno perso le rispettive gare con Siracusa e Regina. Non è tutto positivo però il bilancio della domenica, anzi due i problemi emersi nella gara con l'Akragas, la mancanza di condizione di molti elementi della squadra soprattutto tra i titolari e le idee poco chiare sul da farsi in alcuni momenti della partita, quelli chiave. Quando doveva spingere sull'acceleratore il Foggia si è lasciato imbrigliare dall'11 di Di Napoli che addirittura spesso ha utilizzato l'arma della ripartenza per spaventare i rossoneri. Chi pensava che questo campionato fosse di basso livello e che le partite contro le cosiddette piccole fossero di semplice lettura per via della differenza tecnica probabilmente si sbagliava. Nella ripresa poi è arrivata la risposta in quanto a determinazione ma le idee nuovamente erano abbastanza confuse. Anche qualche cambio può sembrare discutibile o il tempismo nei cambi. Riverola e Letizia sembravano spenti e poco in forma ma lo Spagnolo è uscito tardi mentre l'esterno d'attacco non è uscito proprio. Piccole nubi all'orizzonte che complice l'infortunio di Sarno assumono contorni tempestosi ma il Foggia resta primo in classifica e può subito rifarsi a Castellammare contro la Juve Stabbia tra sei giorni anche se senza Sarno, Guarna e Vacca sarà una prova del nove.